a bene a tutti ragazzi siamo qua con help youtube e alex234 aspetta no è bellissimo è un fantasmino che si muove mi ha dato limitato topper limitato ma lo vedo è quello di halloween ma io non trovo che mi sapeva guarda posso toppers aspetta aspetta ma cosa si trovano nelle casse normalmente non lo so io non l'ho mai messo in mezzo sull'idrox non l'ho mai soppato le casse che cosa sono? quelle la che ti sapevo le piani di cosa? di tua mano di tuo giusto ma le posso vendere alla comunità di stima? si possono vendere si alcune cose si vendono alla comunità di stima vabbè alla comunità di stima solitato eh? no vabbè limitato topper pantalano benissimo allora andiamo ai dopo ora? eccomi un attimo lo sto registrando? si registro sto registrando gioco con la drayton vabbè io ho questo che è bellissimo il fantasmino è bellissimo ho dubbato una volta no sono indecisa tra la drayton e la del oleone tu sei un indecis deciditi ma sei un indecis ma che è bello a chiudere? vabbè gioco con la del oleone si matti non preoccupata non posso guardare se è un indecisivo in una rosa non non si sta in ultima non con la destra e la destra no la destra ok dov'è guarda dov'è guarda dov'è guarda dov'è guarda dov'è guarda dov'è guarda la scarab si vedo così ma la scarab costa la scarab costa ormai ormai costa la scarab ma ma la scarab costa ma no ma ti la zippi la scarab costa come la zippi costa? vabbè noi ce l'abbiamo 399 la scarab costa no la zippe guarda che ho beccato matti il top è il limitato di Halloween la scorsa partita è un fantasmino che si muove ok ragazzi stenzia e io sto in porta guarda la tritone è bellissima è figa come la presento? 3 2 c'ho tutti i sticker della tritone eh si la sono tirata a me no parola ok eccomi 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 dai ragazzi dai ragazzi su eh si raga senta sto pallone no maria io e lo toglila madonna che si è pesata e tu lo sai che questa non è ancora classificata perché non siamo qualificati ci hanno già fatto pallone mentre io ero andata a rispondere in Italia è classificata no però tu devi giocare con noi cioè sono dovuta andare a rispondere per me ne sbatto una minchia oh oh vai in mezzo andate in mezzo tu hai detto noo vabbè ma che cosa ti vedo me la toglila sotto il naso chiamala vare indietro vare indietro vare indietro vare indietro vare indietro filippino e non ci sei fatto sotto ma che l'avevo ripresa avevo fatto tutto si si l'avevi ripresa culo no vero volevi dire questo eh cuculo no no cocomero giusto come gliel'ho levata si si come gliel'hai levata ma bravo come gliel'ho lavata eh ma è gol la macchina come l'hai lavata la macchina mhm la filippino eh no però è un po' sporca è filippino eh e lo chiami il suo fratello filippino che diciamo di pulirla meglio eh ma che c'è scritto sui cartellini che si vincono le soldi eh sail for wind no stavo leggendo il cartellone ma che micchia fai stavo leggendo il cartellone eh si il cartellone è il miei cartellone eh però io ci credo che gioco al serio scusatemi si si sento come come un depresso mentale che ti devo dire come te quindi fai si 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 ma ci contrastano e che mafia è essa russia quella russia è spagnolo e dai che siamo oh ma c'erano compi in spagnolo no? oh ma io sono non c'erano io te l'hanno fatto implodere eh no? si ma dove sei? io è imploso io in porta sto nooo ma no ma ci mette poco a tornare ma Luca è meglio va in difesa figlia di figlia di figlio mio vai in difesa che meglio ma c'erano sì o no? cosa? i compiti in spagnolo nooo lascia ma porco giura che te l'ha mangiato il serbatoio babbo natale non è più stupo? Edょ Edょ non c'erano i compiti in spagnolo vero? no non c'erano gli Inglesi perchè c'erano i dittori eh esatto no signor Edo faccia qualcosa quindi mi confermate di spagnolo non c'è niente per cui domani non mi figlio un 2 un 3 no casomai un 3 ah giusto scusi il 3 è più facile da recuperare un voto infatti ti fa quella cosa cioè ti aiuta la media ti da quella spinta ti da quella sicurezza di un voto in più no vabbè ma noi siamo più scarsi ma che si son mangiati ci hanno aiutato perchè hanno visto la situazione nostra gasparo ma cos'è di cazzare torno indietro casse lascia chi è che torna indietro tuo nipote il nipote di lori gasparo ehi madre del linguaggio oh che saponaggio ma non l'ho fatto io no l'ho fatto io ti ricordo il gol ti ricordo il tuo gol no e non fai schifo ma io non c'entro sei la pitta ragazzi ragazzi non stiamo parlando 6 a 0 ragazzi non stiamo parlando 6 a 0 eh e lui è un piccolo bambino perchè è lo stanno la prima volta che io abbia giocato in classificato abbiamo vinto però basket il basket è più bello no basket non c'è la classificata ma tu fai che lo credo ma io sono mongolo quella era difficile raga era difficile no raga era un piccolo cazzo che era difficile guarda qua eri proprio mongolo vabbè dovete mettiti il tuo gatto certosino sono tutti semiprofessionisti tra l'altro professionista però incredibili eccezionale proprio incredibile stanno facendo un giro girotondo casca al mondo e quando torno indietro una derrapata questi parolini il trick vabbè sono vero il giro sono troppo il mondo è troppo il mondo è troppo madonna che salvataggio il mondo è troppo no lo facciamoci dai ragazzi tutti in mezzo perchè mi spingi? di solito sei te di solito sei quello che prende le botte da dietro dai ragazzi ho sfignato e andiamo dai che ci vuole e non sta a zero incredibile abbiamo riappeso la partita certo da 30 secondi dalla fine l'ho aperto come se l'ho aperto? ma no Ale ma che mi sai da chi mi hai riappato la pagliettoria? meno male che Alex234 c'è sempre e guarda un po' come dice sempre save the game ma me c'è edizio 7471 matti e guarda che mi chiamava no è stato Alex234 riguardatelo guarda 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 zitto è colpa di Alex234 non è stato molto forte però però ti potevi arrivare si raga sei tutti e due vede Martellano Gasparri ammetti che a colpa tua rivela il tuo nome subito prima di gasparri non ti chiamava Alex non mi chiamava Alex non mi chiamava Alex non mi chiamava Alex ma tu non mi chiamava Alex 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 no no c'è un'altra non posso, devo andare già ragazzi ho trovato un champions crate che cos'è? ah si mi servono i soldi per aprire open and now yes dai ragazzi spacchettamento pure subiti lo schermo ho trovato Takumi breakout Takumi la dominus la Takumi e che cazzo è la Takumi? è sua mamma ah perfetto la mister universal de Gaulle che cos'è? è tua sorella a passion procedure for key for chase wheel directly filippina ma che cos'è? ragazzi ma la Takumi è quella che si compra no la Takumi è quella che ti metti nella scena ma che servono le key? ah hai troppato quelle della Super Sonic Fury che sono la Takumi e la Don Minus si? e basta e come si sbloccano? no le bloccate ma qua dice come si sbloccano le key come si sbloccano le key? si e costano? ma sei un genio ma sei un genio ma sei un genio porca ma sei un genio ma sei un genio e costare un bordello? ma se ti fai adesso esco? eh esci esci l'ho perso tutto no ce l'hai ah nel Managing Inventory nei garage ce l'hai e come fa? si può vendere sta roba? ma che cacchio? penso alla comunità di Steam si eh addirittura allora ragazzi se sapete come venderlo no io non lo no dico i ragazzi i ragazzi caca ah ah ragazzi ehm ditemelo cioè se sapete come vendelo ditemelo vabbè ciao ragazzi